arte al centro inaugurazione a città dell'arte qui con noi c'è il viceministro pichetto viceministro a suo avviso quant'è importante una rassegna come questa che fonde mette insieme in armonia l'arte con la sostenibilità diciamo che il termine sostenibilità in questo momento è il termine forse più utilizzato ma ben si addice a quello che è anche il cambiamento climatico la la coscienza di come stiamo utilizzando male quello che il patrimonio del mondo cioè la natura e il significato che ho visto oggi ho vissuto oggi è quello di simbolicamente davvero questo legame tra tra il passato e il futuro ma anche questo legame questa necessità che che noi abbiamo di riprendeci parte di ciò che avevamo lì che avevamo a disposizione che abbiamo a disposizione e che non sappiamo né rispettare né utilizzare in un modo sostenibile adeguato grazie a tutti grazie a tutti